Ciao a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa, per me è un grandissimo onore, mi trovo qui, con Luciano Baglietti, lui è un Guinness World Record, 15 laure, complimenti! 15 laure, speriamo di prendere la sedicesima, e poi specchiandomi forse la prossima dalla scelta dell'alimentazione, guardandomi... Ecco, grande anticipazione, allora servirà anche a me, anche al salutatore... Servirà a tutti e due la scelta dell'alimentazione, penso che sia la prossima. Perfetto, oggi siamo qui, hai vinto anche un ulteriore premio, il premio Simpatia perché sei un paticissimo... Sono molto contento perché mi hanno avvenuto tutto il mondo, l'Italia ancora non mi ha affidato molto. Ecco, hai visto, e invece oggi c'è il premio Simpatia che tu lo metti, ma tu stai sui social, su Facebook... Ma io sono tutte le parti, però... Che curi tu personalmente? No, io sono completamente negativo di questa cosa, perché avendo una certa età siamo stati formati in un altro modo. Una certa maniera. Però, insomma, piano piano col dito lo faccio, insomma, così... Perfetto, allora noi salutiamo tutti i tuoi fanze che ti seguono. Auguri e forza, promettevi sempre nuovi obiettivi. Ecco, e ho una sorpresa per te perché te la meriti, cioè, dai un grande impegno, 15 lauree e io ti do la manina del salutatore come premio. Grazie, grazie a te. Così puoi salutare tutti. Mi sono molto piacere, grazie. Ciao. Grazie, grazie. Grazie da Luciano. Ciao. Grazie. Grazie a te. Grazie.